non mi fa più fare ma ah ecco ah no ragazzi scusate si era buggato ci sta ci sta andiamo ok è un inseguimento quello no strano era molto frase da inseguimento lasciateci stare vogliamo solo farci un giro si sono andato in laboratorio scusa non devi scusarti quello che hai detto significa molto per me a volte mi sembra di non fare abbastanza non pensarlo nemmeno dopo aver perso i miei hai capito non so proprio dove sarei finito senza di te neanche io ce l'avrei fatta da sola Peter volevo solo che tu lo sapessi che carine vediamo un po' dai su no sto perdendo la pazienza dove è quel dossier no sì l'avranno preso quelle maschere chi sono questi tizi qui ci siamo solo noi dobbiamo trovare il dossier non è vero c'è spedermi sopra brutta storia se mi scoprono la uccideranno devo agire in silenzio non era un falso allarme abbiamo degli uomini armati a volto coperto e un ostaggio è in corso una rapina ricevuto invio delle pattuglie nel frattempo assicurati che la situazione non precipiti contaci ok raga quindi mi dice pure dove devo andare quindi perfetto ci sta ci sta anche se questo era silenzioso non devo fare rumore non posso allertare gli altri sembrano comodi avvolti nella ragnatela spero che questa gente non miri a conquistare il territorio di Kingpin contavo di prendermi un fine settimana di relax ok serve una tela dall'alto x che devo fare ci? Stai zitto Perfetto, si era pure pagata la visuale, ma ci sto? Dove devo andare? Dove? 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 Emma, che devo fare? Certo che... Brega Lanciando run in a tele Aspetta Ssshh Stai zitto Ehi, quella cos'è? Infatti, questo cos'è? Esamini Oh, una fotocamera o videocamera Lo sai? Ah, ok Stavo perdendo la Spider-Man Lo sai che devi schivare, vero? Che cacchio è? Ah, è l'amore Ah, è l'amore, eh? Sì, è MJ Quello che fai tu Lavoro O almeno ci provavo Ah, Emma MJ Deve essere tua Nooo, non voglio ascoltare la storia Dai, muoviti su Nooo, 15 minuti prima Oh, i flameback Madonna Madonna, ma che fai MJ, dai Ah, posso aiutarla? Salve Mary Jane Watson Scriverò un pezzo Sull'asta di Fisk Salve Craig l'aveva annunciata per domani Ah, mi piace bruciare le tappe Beh, a me no Temo dovrà tornare domani Certo, d'accordo Mi scuso Ehi, Craig No, mi spiace che A quanto pare dovremmo scegliere Qualcos'altro per la copertina Non lo so Magari il pezzo sulle espressioni A ripensarci Possiamo anticipare a oggi È sicura? È qui Cogliamo l'occasione Gra Craig Non importa Tutto ok Cominciamo Se guardi intorno Familiarizzi con le opere Quando vuole Mi trova accanto alla statua del bar D'accordo Ok, dai Dove devo andare con MJ Vediamo ancora che c'è qua Capisco le ragioni di Ma la faccenda degli eroi mascherati Non mi è mai andata giù Sembra quasi che un vero eroe Debba sparire dietro alle sue azioni Senza assumersi meriti o responsabilità Cissi Nel loro primo scontro Fisca ha usato questa Per affettare Quella volta Pita è fuggito È crollato Simcaria Siga di sono Che cacchio Che siga Che figa Che figa Che figa Vadoo No Mio Addirittura Addirittura C'è troppa tensione Tra le due figure Che meraviglia Una parte di me Vorrebbe mollare tutto E viaggiare per il Ma la mia vita E il mio lavoro Sotto Vabbè Mi avvisi Quando è pronto C'è stato Svelo al mondo C'è stato Giornalismo investigativo Da chi a scuola Ciao sorella Mi piace Magnifico È un mifune Esatto Il signor Fisca Un gran gusto Conosceva bene Fisca Prima del suo arresto Solo in termini professionali Ho gestito molte vendite Andiamo avanti Prego Eh Fai la foto o no Che vuoi da me mo Cosa vuoi Allora Operazioni E non dovrebbe essere qui E non dovrebbe essere qui Scatto una Pronto? Craig Craig Ti richiamo dopo Mia cara Credo sia ora di salutarci Sì Potrei usare un attimo il bagno? Certo Mi segua Grazie Questa è È una galleria splendida Senza dubbio Ma non speri di rivederla in futuro Il bagno è dietro l'angolo Faccia presto Certo Torno subito Torno subito Sì Torno Torno Credici Allora Comunque Ciao Craig Speravo di sentirti Perché la giornalista che hai mandato Non vuole affatto scrivere un articolo promozionale No È ancora qui Devo entrare nella stanza Se ho ragione su quella statua Ne uscirà una storia sensazionale Ahah capisco Piano Se non è la tua giornalista Allora chi è? Chi c'è nella mia casa da Abbù? No Tu non sistemi un bel niente Primo faccio arrestare su due piedi Miss giornalismo investigatrice Secondo Craig Ti strappo personalmente la testa dal colpo Cavolo è fuori di sé Ci stava No cosa fuori di sé? Ci stava Ci stava Sì Un attimo Cosa? Era una tattica calcolata ovviamente Ora potrei andare però C'è il punto interrogativo Che non va bene C'è un senso Pit me ne aveva parlato Fisk lo usava per nascondere le prove Eh sì Perché la polizia non l'ha preso? So che questa statua si apre Ma come si fa? Eh beh Ancora io sto Ancora ma allora si può Ti muovi a scoprire che cacchio ha sto bro qua Ma tipo No zio hai rotto il Sì ma io che gli devo dire? Cioè che devo fare io? Ispezione all'ufficio Ah ma pure qua Ecco perché Abbastanza sauce la cosa Eh sì ma io l'ho ispezionato Cioè non so che dirti Esaminano C'era ruota Ma cos'è? Eh? Cosa è il sito? E se non si può dare nulla Ah eccolo Ora l'ho sbloccato Muovi Muovi Ah no ok Quindi qua in casa di Tornado Guarda eh sì Allora muovi Muovi Eh come ha chissuto Allora eh Gomma mi ha riuscito No poco No poco Eh Il catalogo indicava due posizioni Bocca chiusa Braccio sinistro giù Palmo destro rivolto in avanti Braccio sinistro In avanti Ma ma vai a cagare Oggi è così Ebra Braccio No Te Il catalogo indicava Tu Il catalogo indicava due posizioni Il . Il acknowledge Il catalogo indicava due posizioni Bocca chiusa Braccio sinistro giù Palmo destro rivolto in avanti Sì, questo è questo! Aspetta, forse è possibile Alto! Eh? Non me lo puoi più fare, Graciela Che devo fare? Gli devo attaccare la lancia Prendi Che cazzo ti devo dire? Potrebbe, ma non è quella giusta Ah, ok, ce ne sono altro Video King? No, 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 voglio Questa, eh, eh, mo Ops, no, aspetta, colpa mia, colpa mia Vendi Questa, eh, sì, non era mo Eh, eh, hai visto? L'ho detto io Allora, io direi Sarei salta firmato Stavo scappando verso l'uscita quando ti ho visto Sei fortunata a essere viva Ok, ora fai salvataggio manuale Fai, elimina, raga Fai annulla E fai selezione Il contenuto Si è fatto, sì, a posto, raga Ho salvato, possiamo uscire E quindi, niente, spero che il video vi sia piaciuto Come sempre, lasciate un bel mi piace Il video è finito Andate in pace, bella ragazzoni Ciao! 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 Grazie a tutti.